Scusi, buon uomo, mi sa dire l'ora, per favore? E 5.35 Ma è sicuro? E 36, buon Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino, eh? No Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Allora Le sette e un quarto Ehi, ma sono le sette e un quarto spacca, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? Ja, vedi? Le sette e un quarto